amici ma soprattutto amiche di studio azzeca tv bentornati dalla vostra iolanda come sempre vi invito ad iscrivervi al nostro canale ed attivare la campanellina per poter rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti la prossima intervista che vi proponiamo è stata realizzata con un difensore che nel corso della sua carriera ha cambiato diverse squadre ma è rimasto sentilmentalmente legato al proprio luogo di nascita nonché primo amore il foggia di chi stiamo parlando beh ovviamente di pasquale padalino giramondo da giocatore ora allenatore si è concesso in un lungo racconto ripercorrendo le tappe più importanti della sua carriera potrai presto vederlo dal 14 marzo sul nostro canale youtube quindi noi vi aspettiamo e io vi saluto e a presto